Sipcam ha presentato un prodotto a base di aceto quinocil, Canemite, nome commerciale, un'uova caricida per pomace, druppace, pomodoro e melanzana. Il prodotto non è ancora registrato. Quersola, il Canemite, innanzitutto, quali tipi di acri colpisce? Colpisce, è molto specifico, colpisce il Pannonico Sulmi e Tetranico Surtice. Questa è un'attività molto specifica e, dall'altra parte, caratteristica di questo prodotto fondamentale è la selettività per i fitoseidi e l'entomofauna utile in generale. Sappiamo che la selettività sui fitoseidi consente anche di avere lunga persistenza della strategia di trattamento. Quindi il prodotto da solo arriva ai suoi 20-25 giorni di attività e poi i fitoseidi, in un ambiente non compromesso, ovviamente, danno lunga persistenza e lunga efficacia sugli acari. Qual è il meccanismo d'azione? Così possiamo avere anche indicazioni sul momento di utilizzo. Questo è un prodotto che agisce per contatto, agisce sulle uova, però come effetto collaterale, fondamentalmente agisce sugli stadi preimmaginali, quindi comunemente chiamate larve, e sugli adulti. Quindi è un'adulticida, è un prodotto curativo, anche se non è il termine più appropriato per una caricida. E agisce sulla respirazione cellulare, su un sito della respirazione cellulare, cosiddetto sito citocromo 3, diverso da quello, per esempio, dei meti, che è la grande famiglia degli acaricidi ancora oggi largamente impiegati, dove qui ci sono effettivamente già non solo sensazioni, ma misure di ridotta efficacia, se non resistenza in alcuni casi. Quindi è un'arma molto importante per la strategia antiresistenza, al di là dell'efficacia intrinseca del prodotto. Non è ancora registrato? Non è ancora registrato, è in corso di registrazione, contiamo nella seconda metà dell'anno di avere la registrazione, queste sono le garanzie che ci arrivano a livello ministeriale. Non è ancora incluso, peraltro, l'annesso 1, quindi stanno arrivando insieme fondamentalmente la registrazione italiana. In Europa è già registrato da tre anni in Olanda, da due anni in Germania e in Austria. Stiamo arrivando come Italia quest'anno, poi arriverà la Spagna, insomma, a seguire tutti gli altri paesi europei. L'annesso 1 dovrebbe essere questione di quest'anno, anche quello lì. Per quali colture? Dunque il canemai ce l'abbiamo su melo, druppace e su lanace, pomodoro, melanzana. Classe tossicologica? È un non classificato, quindi dal punto di vista tossicologico, oltre che ecotossicologico ambientale, è un prodotto che si presenta, direi, con tutti i connotati in regola per strategie moderne di difesa e di salvaguardia dell'ambiente e dell'uomo. Rispetto alla residualità? Rispetto alla residualità, anche qui si comporta molto bene, ovviamente quando andiamo soprattutto su colture orticole e con i tempi di carenza molto brevi è la prima domanda che ci viene fatta. E sulla residualità ha un comportamento molto buono, sempre al di sotto degli RMA. Fra l'altro i residui massimi ammessi sono appena stati rivisti per le orticole, pomodoro e melanzana in particolare a livello europeo come armonizzazione e questo ci dà un'ampia garanzia di stare sempre comunque sotto i residui massimi ammessi. Isagro Italia Siappa ha presentato un prodotto a base di bife nazate, nome commerciale Acramite 480 SC, un nuovo acaricida per le colture orticole. Il prodotto è già registrato. La prima cosa più importante è che è un nuovo principio attivo, il bife nazate, una famiglia chimica nuova, carbazate. E questo è importante perché negli acaricidi dove si susseguono i cicli molto velocemente è facile la resistenza, questo ha un nuovo meccanismo d'azione. Nel gruppo Iraq europeo che valuta la resistenza degli acaricidi è classificato come UN, che vuol dire unknown, cioè sconosciuto, il meccanismo d'azione non è ancora ben determinato. In base al meccanismo d'azione come va appunto impiegato? Il prodotto va impiegato alla comparsa dell'infestazione degli acari, è infatti un larvo adulticida e appunto quando c'è la manifestazione dei primi acari bisogna intervenire. I dosaggi sono estremamente bassi per un principio attivo completamente nuovo. Già registrato? È già registrato, è stato registrato il 4 novembre dello scorso anno, questo è il primo anno di commercializzazione. Contro quali acari? Adesso è registrato per il tetranicus urtice, quindi il regnetto rosso delle orticole, ma è in estensione il prossimo anno anche su pannonicu sulmi, quindi il regnetto rosso sulle frutticole. Per quali colture in particolare? Quando parliamo di orticole e di frutticole? Quando parliamo di orticole c'è la fragola, il pomodoro, la melanzana, il peperone, il citriolo e lo zucchino. Successivamente ci sarà un'estensione su altre cucurbitacee, su le pomace, le druppace e quindi i fruttiferi principali. Però adesso partiamo con fragola e le principali orticole. Avete anche dei dati sulla selettività nei confronti dei fitoseidi, molto importante? Certo, è risultato selettivo sui fitoseidi, in particolare i fitosei Luspermilis, anche sugli insetti utili e naturalmente rispettoso di api e bombi. In provincia di Ferrara noi abbiamo molto cocomero, in questo caso qual è la strategia di difesa? La strategia è utilizzare il prodotto all'inizio della manifestazione degli acari, quindi a prima comparsa, utilizzando dai 20 ai 25 millilitri ettolitro di prodotto, che vuol dire dai 200 a un massimo di 375 su queste orticole, mentre sulla fragola il massimale è 300 millilitri ettaro. Per quello che riguarda la residualità? Il prodotto ha un periodo di carenza molto basso, sono tre giorni, e quindi è ottimale anche per le colture orticole, proprio per questo breve periodo di carenza che ha. Classificazione tossicologica? La classificazione XI, quindi irritante, e N, pericoloso per l'ambiente, e è anche questo una cosa da considerare, visto che gli acaricidi e gli insetticidi molto spesso sono XN o T.